Gela è la prima città siciliana a siglare un gemellaggio nel contesto dello sbarco alleato con una città della Normandia. Stamattina in Aula Consiliare, l'assessore allo sporto turismo e spettacolo Salvatore Incardona ha siglato il protocollo in contemporanea al sindaco francese Romain Bale, collegato in remoto. Quella di oggi è una giornata che definirei storica per quello che è avvenuto, il gemellaggio fra due grandi nazioni, l'Italia e la Normandia e soprattutto la nostra città di Gela che ha stretto di fatto questo patto con gli amici appunto francesi e che oggi abbiamo avuto la possibilità di esternare a tutti coloro che sono stati presenti ma anche a tutta la cittadinanza. Per noi amministrazione comunale è veramente un fiore all'occhiello la giornata di oggi e un punto di congiunzione in quelli che sono stati sì eventi tragici ma che hanno segnato sicuramente la storia della nostra città. Da circa un anno che con l'associazione della Normandia Sicilia, il cui presidente è Salvatore Bellomo, un oriundo siciliano che ha avuto incarichi politici in Francia ed è stato un grosso dirigente del Credit Agricole. Lui ha avuto questa grande passione, ci siamo incontrati un anno fa, siamo diventati molto amici, abbiamo condiviso questo percorso che non è un percorso semplice da attuare. Considerate che Gela e Quistream hanno sviluppato un gemellaggio ed è il primo gemellaggio sull'argomento sbarco che si è sviluppato in Sicilia. Non ci sono altri comuni gemellati per questo motivo. Alla cerimonia organizzata dall'Associazione Lampadoria, che ufficializza l'unione delle due città che già condividono la storia dello sbarco, hanno partecipato anche gli alunni gelesi di diverso ordine e grado degli istituti comprensivi Ettore Romagnoli, San Francesco, Gela Butera e gli studenti dell'Istituto Alberghiero. Presente all'evento anche il presidente dell'Associazione Normandia Sicilia, Salvatore Bellomo, l'Associazione dei Bersaglieri di Gela, l'Istituto Nastrazzurro e la Federazione di Caltanissetta. Possiamo dire che anche noi, perché è un fatto storico per la nostra città, oggi abbiamo un gemellaggio che porterà probabilmente scambi culturali, economici, turistici fra noi e questa città della Sdormandia. Questo gemellaggio non va altro che proseguire quel percorso di avvio verso il turismo che questa città nostra sta avviando già da qualche anno e quindi con questo si inizia un nuovo percorso. Gela ha avuto in occasione dell'ottantesimo l'idea di portare avanti questa idea. Peraltro, chi sa degli altri comuni che noi stavamo sviluppando il progetto erano molto interessati. Io ho visto diversi sindaci di altri comuni che mi chiedevano come fare per gemellarsi. Quindi io sono convinto che da qui hanno molto, ci saranno altri comuni della Sicilia e in alcuni casi anche vicino a noi, vedi Riccata o altro, che faranno di tutto per fare un gemellaggio con la Normandia. Noi siamo stati i primi perché? Perché da diverso tempo abbiamo messo in essere un ragionamento per sviluppare la memoria nel territorio attraverso la creazione di tanti luoghi della memoria. Perché questo deve rappresentare da un lato un ricordo, ma dall'altro lato noi andando nelle scuole diciamo sempre che non si ripeta mai più, perché quello sbarco e le battaglie che sono avvenute nel nostro territorio con migliaia di morti non si devono più verificare.